Amici di Twitch, buonasera a tutti, benvenuti, non fate caso a quei due individui loschi là sopra che ridono perché non hanno veramente motivo di questa risata Si dice che il riso abbondi sulla bocca degli stolti, quindi Andrea Spanchi, beccatevi questa Comunque benvenuti in questo episodio di Live Talks numero 258 Ebbene sì, 258 Emiliano, tu che sei stato uno dei nostri primi ospiti, l'avresti mai detto che saremmo durati così tanto? 258 Sì, 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 cioè io l'avrei detto, però la mia opinione ovviamente non conta niente, cioè ognuno ha le sue opinioni sulle cose che valgono per il suo piccolo mondo nel suo cervello Però per me era abbastanza palese, cioè non vedevo grossi motivi per cui non sarebbe dovuto succedere Che bello, questo ce lo prendiamo, comunque benvenuti, episodio 258 Live Talks dedicato speciale One Piece live action di Netflix Quindi non ci soffermeremo sull'anime o sul manga, ma soprattutto e in via esclusiva, fatemi dire, sulla serie Netflix E con noi abbiamo l'onore di avere dei grandissimi professionisti, attori, doppiatori, Riccardo Suarez, Emiliano Coltorti E un massimo esperto di anime e manga che è Kirio ed è un piacere averlo con noi di nuovo, collega content creator Quindi grazie mille di essere qui con noi È un piacere essere con voi, grazie a voi Piacere nostro, nel frattempo vedo anche Alex, lo faccio entrare Infatti ti stavo dicendo, mi è sembrato di sentire qualcuno Lo butto là, direttamente in diretta, così lo facciamo anche sentire un po' in colpa Che si è presentato un po' in ritardo, fatemelo dire Stavo avendo problemi tecniche Diamo il benvenuto ad Alex Polidori Ci è abituato, ci è abituato, non si può sentire in colpa perché è in ritardo Ma mi giro? Mi giro Come preferisci Aspetta, così Bravo, resta così Così va bene, ci siamo Ciao a tutti, come va? Ciao Alex, bene, te tutto a posto? Tutto bene, tutto bene Scusate c'è avuto qualche problema tecnico, non riuscivo a aprire il link, ma ci so Mi sembra di aver sentito un altro campanello che suona Anche io ho sentito Trin Ah, ok, adesso allora eccolo, facciamo entrare anche Alessandro Campaiola Caramba che sei Alessandro Buonasera, scusa quanta bella gente Ciao, buonasera Ciao a tutti Bentornato, come stai Alessandro? Bene, voi come state? Bene, benone, grazie Siamo molto felici di fare questo episodio insieme perché oltre alla bellezza, insomma all'importanza della serie Rivediamo proprio dei grandissimi artisti e degli amici del canale come te e come tutti voi, quindi grazie Grazie a voi Però, prima di iniziare, insomma, ricordiamo sempre l'ovvio quei due o tre minuti Fatemi salutare la chat, voi che siete qui, bellissimi, tantissimi, siete fantastici Iscrivete, commentate, parlate tra di voi Vi ricordo, le domande verranno lette nell'ultima parte della diretta Quindi evidenziatele e noi pescheremo a caso qualche domanda Non tutte, quindi vi prego non insultatemi almeno stasera Dopodiché Dopodiché vado a salutare i nostri VIP Coloro che sono gli irriducibili del canale Mister Lannister, Tommy Rolando, Simona che hanno il saluto personalizzato I nostri mod che sono la polizia del canale Quindi siate carini in chat perché altrimenti prima vi sospendono e poi vi bannano Se non siete carini e coccolosi un po' come i pinguini di Madagascar E poi saluto anche tutti gli altri Spanchi, ci dici in 30 secondi comandi così andiamo subito alla ciccia del Spanchi, vai Non in 30 secondi Punto esclamativo Telegram Momentimè, programmazioni Punto esclamativo Sub dai 3,99 euro al mese in su Gratis, completamente gratis se avete Amazon Prime Saltate le pubblicità, recuperate i VOD Usate le nostre emoticon personalizzate Ed entrate nel nostro gruppo privato Telegram Dove ci siamo noi che scriviamo E anche alcuni ex ospiti Punto esclamativo ospite Questa sera ragazzi, mamma mia, spammate a bomba Perché ci sono i social di tutti i nostri ospiti Quindi seguiteli, ma non stalkerateli Punto esclamativo quote Pesca una frase storica detta da noi o dai nostri ospiti Che volenti o non lenti è rimasta lì nell'epicità del programma Chissà se questa sera ne uscirà qualcuna di nuovo A chi lo sa, punto esclamativo website Il nostro fantastico sito E donate Mamma mia raga, scusate, fa sempre più schifo ogni volta che parla E fa sti domani Stiamo anche andando via Si spera che migliori di volta in volta Dopo 200 episodi invece è sempre quello Io se hai visto sono andato via Eh ho visto, hai fatto Alzare Alex Alessandro ti guardava con passione La trattate sempre male Emiliano proprio così qua a mano Guarda io anche L'unico Ce la guardano proprio di carinella Riccardo e Chirio sono gli unici due un po' Mi dissocio, mi dissocio Va bene Allora io inizierei con la prima domanda Che è sempre uguale per tutti gli speciali Quindi scusa Emiliano Te la sentirai anche te per la tipo Quarta, quinta volta Però È un piacere E questa vi chiederei Il primissimo ricordo Che avete In primis col prodotto One Piece Generale E Nello specifico invece Con Questa lavorazione Che può essere Non so Nello specifico La prima chiamata che avete avuto Se avete avuto un provino Non lo so Io farei iniziare Proprio Chirio Chirio dall'alto a destra Chirio ovviamente A me nessuno mi ha chiamato No però Lato professionale Spanchi hai scelto l'unico Però lato professionale Insomma dal lato tuo Qual è stato il primo ricordo con One Piece Da fruitore E poi da Da addetto ai lavori No? Il primo ricordo con One Piece È abbastanza lontano nel tempo Credo di essere Il più anziano qui A occhio E Forse Non lo so Comunque Risale ai primi anni 2000 Quando è stato pubblicato Per la prima volta in Italia Comunque su Su Express La rivista che appunto Ha portato One Piece in Italia Ma in realtà Io non ho cominciato a leggerlo subito Cioè Lo leggevo su quella rivista Quando è uscito lì Quindi un capitolo al mese Però poi Quando è passato in monografico Ho detto Ma quasi quasi Aspetto un attimo che finisca Lo metto un attimo da parte Perché Ho tante cose da leggere Ho sempre letto tanto È passato qualche annetto E non è finito Quindi Proprio quest'anno Ho deciso di riprendere Il cartaceo Con la nuova edizione Che sta uscendo E spinto anche un pochino Dalla Dalla serie In realtà La serie live action Su One Piece Ovviamente Su Netflix Che mi è piaciuta Parecchio Devo essere onesto E il primo approccio Con la serie Netflix Lo ho avuto Come tanti colleghi Credo Quando uscirono I primi trailer In particolare Il primo teaser Che forse è quello Che ha fatto un pochino Più parlare di sé Perché Molti dicevano Peste e corna Di questa serie Io In realtà Già dal primo teaser Ero abbastanza convinto Che fosse una serie Che mi sarebbe Potuta piacere Credo di averla vista Subito per quello che era Quindi sicuramente Non una serie televisiva Scritta da Stanley Kubrick Voglio dire E diretta da Stanley Kubrick Ma una serie Che avrebbe fatto Esattamente il suo compito Intrattenere Intrattenere bene Far divertire Far emozionare Sia i fan Dell'opera originale Che anche Tanta gente nuova Cosa che poi Ho avuto la conferma Perché comunque Tante persone Che non leggono manga Non hanno mai visto L'anime di One Piece Non hanno mai letto L'opera cartacea di Oda Sono rimaste Favorevolmente Impressionate Quindi Ben o male Rispetto a tanti altri Che l'hanno presa Subito un po' male Perché secondo me Comunque In generale Vivono male Proprio L'adattamento Live action In senso lato Cioè Pensano che un adattamento Deba essere Una copia Uno a uno Dell'opera originale Quando secondo me Non è assolutamente così Anzi Io sono ben contento Quando l'adattamento È diverso Dell'opera originale Perché l'opera originale O l'ho già letta O l'ho già vista Sotto forma di anime O se mi interessa Lo andrò a leggere Quindi L'adattamento live action È letteralmente Un'altra cosa Perché dovrei Fare il giochino Delle similitudini Che può essere Una curiosità Niente di più Quindi questo Fondamentalmente No ma Sono d'accordissimo Anche perché io Non sono vicino Al lato Manga e anime Però Me la son vista Mi è piaciuta molto E la voglia Poi di recuperare L'opera originale C'è Quindi Io sono proprio L'esempio lampante Di quello di cui parlavi Ossia una persona Che è esterna A quel mondo Vede Il live action Gli è piaciuto molto E quindi poi Ha la voglia Di magari recuperare Anche la versione cartacea O quello che è stato l'anime Poi vedi il quantitativo De puntate La voglia De passa subito Però L'idea c'è L'idea c'è E rimane Dovete essere coraggiosi No credo che Aspetterò gli anni Credo che Aspetterò gli anni Che sviluppino La serie Netflix Anche perché poi Mi perdere queste Fantastiche voci Che abbiamo Questa sera Io Vado così In ordine Come vi vedo Quindi Emiliano Sì Beh Anch'io Insomma Ho qualcosa di simile Nel senso che Non A differenza di Chirio Io non ho Benché mi ami Definirmi un nerd Lo sapete Antelittera Perché lo sono da prima Che la parola Si diventasse Di uso comune E significa Tutt'altro E Sono pieno di manga Ho letto un sacco di cose Ho visto anche Parecchi anime Ma One Piece Non l'avevo proprio Mai frequentato Era una cosa Che ovviamente Ne conoscevo l'esistenza Conoscevo L'estetica Di One Piece Ho visto spessissimo Tavole O comunque Piccoli pezzi Delle animazioni Quindi Fondamentalmente Sapevo Più o meno Che cos'era Ma niente più Di questo Cioè sapevo parlare Dei pirati Sapevo che genere fosse Cose di questo Di questo tipo qui Ma non mi ero mai Effettivamente avvicinato Perché non mi aveva mai Incoriosito A dirla tutta Non ho una passione Diciamo di base Verso l'ambientazione Piratesca Che se c'è di Uh che figo Lo voglio vedere Mi interessa a prescindere Quindi questo non c'era Non mi è capitato Di avere qualcuno vicino Che me lo spingesse Particularmente Magari tra gli amici O quelli che ho potuto Frequentare Nell'ambito O anche fuori Negli anni Quindi Io sono arrivato Proprio Tipo Tipo tema Cioè proprio da fuori Dicendo Io non ne so Un cazzo Quindi vengo E vediamo E vediamo che cos'è Quindi Ho scoperto Diciamo Il tutto Quando Ma non ho fatto un provino Mi hanno Convocato Insomma Quindi il direttore Marco Benevento Mi ha pensato Su questo Su questo ruolo Io sono molto grato Perché da quando sono arrivato Ripeto Non potendo fare E sono perfettamente d'accordo Con quello che diceva Chirio Prima Sul fatto che non ha senso Fare paragone Quando si parla Di un adattamento Di un'opera Uno si va a vedere l'opera Se no Si vede l'adattamento Che è un'altra cosa Sì con tutti gli spunti Che ci possono essere in comune Interessanti E da rispettare Per cui io Sono arrivato E da subito Ho detto Perché Stato sul mio personaggio Che mi ha divertito Dal primo istante In cui l'ho visto Perché L'attore è bravissimo Gli hanno fatto un servizio Secondo me Veramente coi fiocchi Anche da un punto di vista estetico Da un punto di vista di regia Di montaggio Eccetera La musica Il suo tema È fighissimo Quindi da subito Ma mi ha preso Mi sono divertito tanto Quindi io L'ho scoperto Quando mi hanno chiamato Con grande Riconoscenza E con grande Gioia Nel dire Ma guarda Che cazzo Mi ritrovo a fare Stupendo E quindi Questo è stato Che poi tra l'altro Emiliano Tu fai tutti i personaggi Super particolari Mi ricordo Allo speciale precedente In Spider-Man Across the Spider-Verse La macchia Esatto La macchia Che è un altro personaggio Molto sui generi Quindi Sono fortunato Io lo dico Da sempre Sono veramente Ultrafortunato Nel mio lavoro È una Una gioia quotidiana È una Riconoscenza quotidiana E All'interno di questa Diciamo Mia riconoscenza Devo dire Sono particolarmente Grato al fatto che Evidentemente Vengo in mente Quando ci sono Ruoli un po' particolari Personaggi un po' estremi A metà tra Il grottesco La coglionaggine L'inquietudine Cioè Tutta una sequenza di cose Che Mi riconosco Non che io sia così In senso Mi riconosco Odio in parte Forse anche Ma Per dire Sono cose su cui Mi diverte lavorare Ecco Da attore Sono La tipologia di lavoro Su un certo tipo di verità Che puoi andare a far passare Attraverso Invece Un vestito Particolarmente Divertente E quindi Chiaro Chiaro Sì Figo Poi con i clown Aveva già esperienza Con i clown Che tra l'altro È buffa questa cosa Perché rimangono Una delle figure Che più mi terrorizzano Ma da sempre Da quando ero bambino C'è proprio una cosa Che a me Metti in clown Da una parte Così E io già Ok Me ne vado Cioè Proprio Cambio Per far vedere Questo tatuaggio A Emiliano Ecco Appunto Appunto Perfetto Perfetto Voglio dire È soggettivo Non è che Dico Oh mio Dio È proprio Quindi è stato Particolarmente figo Perché mi ritrovo a fare Mi sono andato a fare Sì Più volte Dei clown Diversi Tra di loro Però insomma Divertente Figo Figo In chat c'è uno spunto E te la butto in là Ti manca solo Joker Chissà Chissà Beh questa la posso dire Allora Io teoricamente Sapevo che avrei Probabilmente Fatto il Joker Di Jared Leto All'epoca Perché Lo doppio spesso Perché quando uscì Il trailer Lo feci Mi chiamarono A fare lui Quindi Il primo trailer Che girava Era con la mia voce E poi Avevo una sequenza Di scelte diverse Ha cambiato di mano Eccetera Invece è stato dato Mi pare a Simone D'Andrea Che è bravissimo Insomma Un collega che stimo Tutto me stesso Quindi È un amico Quindi A parte la rosicata personale Dire che cazzo L'avrei voluto fare io Chiaramente non c'è avuto Niente da dire Però sì Per rispondere allo spunto Sono d'accordo Mi mancherebbe solo il Joker Che farei Molto Molto volentieri Noi la lasciamo là Poi vediamo Sospesa La lasciamo lì Nell'aria Esatto Riccardo La domanda La domanda Scusate Ci siamo persi un attimo Torniamo un attimo La domanda principale Non so se te la ricordi Te la rifaccio Tranquillamente Sì vai Ok era Mi pare fosse comunque Come quel mio stato Il mio primo approccio A One Piece Il tuo primo ricordo Di One Piece In entrambe le direzioni Ossia Lato Lato Fruitore Se ce l'hai poi E il lato professionale Ok Allora Beh Allora Sicuramente La mia generazione È molto legata A One Piece Era Una generazione Che si approcciava Al prodotto Probabilmente In un secondo tempo Nel senso Che io sono nato nel 2000 One Piece Se non sbaglio È uscito Anni 90 No beh In Italia Nei primi 2000 Comunque In Giappone 97 Ah vedi Comunque sì Primi 2000 Quindi comunque Io sono nato nel 2000 Quindi la generazione Di ragazzini Che guardavano One Piece Della mia età Comunque lo guardavano Che era già uscito Che Però mi ricordo Che L'avevo cominciato anch'io Infatti io L'ho guardato Quando ero Piccolo L'ho visto Fino a Skypie Se non sbaglio Quindi episodio 117 Non so così E Il problema appunto Era la quantità Di episodi E quanto fosse Dilatata come storia Perché mi piaceva Tantissimo Però L'anime in particolare A differenza del manga Che è un po' più veloce Richiede un po' di tempo Per essere guardato E per essere usufruito Perché I tempi sono molto dilatati Un combattimento È inframezzato Da molti momenti Di pausa Di riflessioni Di flashback Magari su un manga Te lo sfogli più velocemente Invece In animazione A un certo punto Non ce l'ho più fatta Quei tempi del lavoro A seguirlo E Quindi l'avevo lasciato L'avevo lasciato da parte Non l'ho più seguito Però Comunque sono sempre stato Interessato al Al prodotto E poi al lavoro È successo A un certo punto Dal nulla In realtà io Ho fatto un provino Per questo Personaggio Perché Sì perché Netflix Cercava Una voce Per questo Appunto Per questo personaggio Che aveva Una vocalità Così particolare La verità è che io Il provino vero e proprio Non l'ho fatto Cioè Sono Entrato in sala Ho veramente Inciso una battuta Così Perché non avevo Tampoccia Di base Dovevamo fare Questo provino In frettissima Per mandarlo a Netflix Però alla fine L'abbiamo Abbiamo mandato Questo test vocale Perché Serviva solo Un match Per capire Se questa voce Andava bene E E niente Da Netflix Sono stati Assolutamente contenti Non penso Ci fossero Altre persone Che hanno Provinato Però Ci tenevano Veramente Che fosse Una voce Adderente Al personaggio E Che potesse Anche trasporre La sensibilità E Come si dice La leggerezza Di questo personaggio Che peraltro È interpretato Da un attore F2M Che È nato Biologicamente Donna Ma Ha fatto La transizione Quindi Non era facile Da doppiare Giustamente Si è ricercata Una voce Assolutamente Maschile Però Comunque Con Delle note Leggere Devo dire Che in questo Sono fortunato Tendenzialmente Chiamano me Quindi Sono molto contento Di aver preso parte Al progetto Il personaggio Nella serie originale È così Laterale Che io non me lo ricordavo Onestamente Me l'ero un po' Dimenticato Gli hanno dato Molto più spazio In questo In questo Adattamento Quindi Mi ha fatto solo Che piacere È È stato Veramente un lavoro Bellissimo Perché Con Con Marco Marco Benevento Si lavora benissimo E quindi abbiamo Lavorato molto Approfonditamente Su come Regalare Queste Queste note Così Così dolci Così Timide No Di questo personaggio Ah vedi che bello Non sapevo Che fosse Nell'anime Un personaggio Marginale Cioè nel senso Come l'hanno Imposta su All'inizio 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 Poi dopo Invece Prende Piede Rimane comunque Una cosa Molto secondaria Però comunque Lo seguiamo Lo vediamo Crescere Anche lui Perché Nell'evaction C'è un po' Questo scontro No Tra quelle che dovrebbero Essere le due fazioni Da una parte La ciurma E dall'altra La marina E quindi ti fanno vedere Quelli che poi dovrebbero essi Due che fanno Questo eterno Faccia a faccia Nell'anime Non è proprio Così spinta La cosa Nel senso che La linea di dettaglio Di alcuni personaggi Nell'anime Nonostante Siano tantissimi episodi Non è proprio Così profonda Vediamo molto di più Nel live action L'hanno gestita Benissimo Perché è una delle storie Di cui personalmente Sono più curioso Di vedere come va avanti Perché l'hanno Definito bene E anche Vedere come Venga influenzato Da una parte E dall'altra Se riesce a mantenere Quelli che sono I suoi valori Anche i rapporti interni Alla marina Insomma Ci sono delle dinamiche Importanti Un bel personaggio Un bel personaggio Lo porteremo Esatto Alex Quali sono i tuoi primi ricordi Invece con One Piece Allora Io Pensi di essere Ancora meno Ferrato di Emiliano Sono buona compagnia Però stasera Sono contento Allora Diciamo che Io One Piece Me lo ricordo Se non erro La memoria non mi inganna Era piccolo Lo facevano dopo Dopo Dragon Ball Io dopo Dragon Ball Spegnevo Quindi Questa è la Mi odieranno tutti Adesso Ma però Questa è la tua storia Con One Piece Sai qual è il primo ricordo Di One Piece La sigla Cacchio Giorgio Anni e Cristina D'Avena Quella è una roba La sigla italiana Perché tutti Che tutti odieranno Probabilmente Perché tutti conoscono Quella giapponese Non lo so Però No 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 Sì Infatti La canzone la so bene Dell'anime Non so Quasi nulla Sennò che prima Si chiamava Rubber E poi adesso Si chiamava Luffy Infatti Quando ho letto Luffy Dico Ma però si chiamava Rubber Questo Cioè Pensa come stavo Quindi sto facendo Una figuraccia Però purtroppo È la verità Anche io Anche io Non sono mai stato Troppo attratto Dalle ambientazioni Piratesche Mi sono ritrovato molto In quello che dice Emiliano Quindi forse Non mi Non mi prendeva molto Mi ricordo che però I miei compagni di scuola Lo guardavano tutti Lo facevano su Italia 1 Insomma Il pomeriggio Quindi Era Era molto Cioè No tutti No però Molti lo guardavano Io Da fan accanito Di Dragon Ball Non Mi limitavo a quello Riuscivo a essere fan solo Di una cosa Ecco Perché poi il tempo Era già poco Perché già poi Il pomeriggio Spesso O si facevano i compiti O si andava già A fare i giorni di doppiaggio In quell'età Quindi non è che Ci fosse tantissimo tempo Per quanto riguarda Questa lavorazione In realtà sono molto fiero Molto contento Perché so che è una cosa Ho capito Piano piano Che era una cosa grossa Quando mi hanno chiamato Per il provino Che credo anche nel mio caso Fosse una prova voce Ma non so sicuro Quindi Prova voce Intendiamo Che si faceva una prova Solo su un attore Cioè Solo per un doppiatore Poi se non andava bene Magari ne avrebbero cercate altre Mi ricordo So Che inizialmente Cercavano qualcuno Di ancora più giovane Perché anagraficamente Forse Io sono un po' più grande Dell'attore Se non erro Però In realtà poi vocalmente Essendo poi il personaggio Anche un po' Mi lasciava spazio Per utilizzare delle note Comunque Abbastanza Non leggerissime Però ecco Da cazzone Ecco Usopp Poi In quel momento È il re dell'inganno In questa ambientazione Un po' No Cioè Riesce a fare Della sua Cioè la sua dote Di raccontare Fandoni Praticamente È il suo potere No Non ha grandi Grandi poteri Quindi Forse nessuno Non lo so Sa fare Per ora Per ora Usa la fionda Credo Una volta Ora non facciamo spoiler Ma l'avranno Nell'unico punto di coraggio Esatto 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 Che poi dopo Insomma ne parla Come se avesse fatto Chissà che avessi Tutti da solo Però ho adorato Il personaggio Perché Ci sono proprio Quei personaggi Che penso Siano nelle mie Cioè Proprio la zona Di comfort Nel senso Ti diverti Fai il cretino E insomma Non Mi sono trovato Proprio a mio agio Cioè sono proprio Quei personaggi Che faccio Veramente Divertendomi Senza Pensare troppo A magari Alcuni accorgimenti Tecnici Che invece A cui bisogna fare caso Quando fai personaggi Un po' più Non so Distanti da te Alcune Sia tecnici Che ecco Recitativi È molto simile A me Anche Un po' Credito Insomma Quindi Mi sono trovato bene Marco Benevento Volevo fare un altro Elogio a Marco Benevento Perché è stato Insomma Ci ha diretto In maniera È riuscito a curare Questo prodotto Nonostante comunque Come abbiamo Abbiamo parlato tante volte Le serie Non sempre vengono curate No Così tanto Per un fatto di ritmi Che ci sono E siamo riusciti comunque A Io ho visto Non tutte le puntate Ma quel poco L'ho visto Nell'insieme Ha un bel doppiaggio La serie E E non sempre Per serie di questo livello Viene Vengono curati così No I prodotti Quindi Quindi sono contento Ecco Facciamo una menzione speciale A Marco E a tutta la La squadra Yes Assolutamente Verissimo Assolutamente Doppiaggio Veramente al top Ma prima di passare Ad Alessandro Chirio Ci speglia il volo Perché Effettivamente Rabber Rufi Luffi Cioè Ci sono stati mille modi De chiamare sto protagonista Soprattutto Asof Usop Asof Rufi 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 Luffi Sono Anche lì questioni di pronuncia Io dico Rufi Qualcuno dice Raffi Addirittura Però quello è Luffi Però quello è Rabber È l'unico che in realtà Non esiste Ok Rabber Sì però prima era così Ok Ok Poi immagino La differenza tra Luffi Rufi Venga anche da Dal fatto che in giapponese La L Sì sì E quello è stato Un argomento di discussione Dal giorno zero Ma a parte Solo le sciabatte Di Rufi Sono state Il peggior argomento Di discussione Esatto Oltre a quello È il fatto che Nel live action Sembra quasi Perennemente Danzante Cioè Quando parla È difficile Se tu chiudi gli occhi E lo ascolti Sia in originale Che ovviamente in italiano Senti Questo suo modo Di parlare Che sembra quasi In una danza Non è mai fermo Non è mai statico Come personaggio E questo è Un po' in contrapposizione Con quello che è Realmente Cioè lui è quello che Finito tutto Esce fuori Prima Dietro Nascosto Quindi De Base Dovrebbe essere Al contrario Cioè dovrebbe essere Un personaggio Che parla in maniera Molto Sai Da persona che se la tira Però Precisa Invece È amicone Nel modo di porsi Si espone Anche Si espone E' molto interessante La chiave che gli hanno dato Ma sono curioso Di vedere la seconda stagione E poi come Evolverà Perché Vedremo Vedremo Vediamo Facciamo qualcosa di concreto Vediamo Vediamo che farà Vediamo che farà Alessandro Eccoci Allora I primi ricordi tuoi Con One Piece Allora È il più esperto Di tutti Ale Regà Il mio amico 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 Prima di me Io anche In realtà Essendo sempre Un appassionato Di anime e manga One Piece Però purtroppo Non l'ho mai Mai coperto A differenza però Dei miei amici Ci ho provato Quanto meno Perché qualche anno fa Sono andato allo Star Shop Qua a Scipioni E ho preso Quattro scatoloni Che non lo posso fare Quanto sono grossi Pieni dei fumetti Dentro Per dire Oh lo devo recuperare Sto One Piece Parlano tutti Dei One Piece E non ce l'ho fatta Chiaramente Perché è un'impresa Edica Cioè dovresti avere Una Ciment No? Quando finisce C'hai i laghi Perché hai fatto L'impresa Quindi i miei primi ricordi In realtà sono su Italia 1 Il pomeriggio Pure io me lo guardavo Così Per quanto riguarda Il provino Io non ho fatto provino Per lo meno Non l'ho fatto Su Stangi Io inizialmente Sono stato chiamato Ho fatto il provino Su Zoro Che poi però Ha vinto Il mio bravissimo Amico e collega E poi Marco È stato carinissimo Mi ha chiamato Per fare Sanji Che oltretutto M'è andata benissimo Perché è sempre stato Il mio personaggio Preferito Fin da piccolo Insomma Quindi questo è Ah ok Vedi Sanji Però Da Zoro Ti sei ritrovato Poi un Un Latin lover Di quelli Di prima categoria Anzi addirittura Dico in chat Doveva essere Ancora più cascamorto Sanji Eh sì Nel manga L'ho molto di più Pure Andrea Adesso per Per Asop Io credo che Chiaramente I personaggi Sono stati Riadattati A servizio Dell'evection Perché ovviamente Non potevano essere Proprio Pari Voglio dire Ci sono delle cose Che nella realtà Non si possono fare Non si possono rendere Sanji Per esempio Nell'esempio Sanji Nell'anime È un personaggio Che fa delle cose Noi Vengono gli occhi A cuore Sarebbe ridicolo Sangue d'anato Esatto Sangue d'anato Dai Sanji È un personaggio Un po' Rivecchiato Come Come Rivi No dico Sanji è un personaggio Anche che Nel contesto di oggi Forse Sarebbe stato Poco apprezzato Hanno voluto Riadattarlo Un pochino L'hanno reso Meno viscido Eh oddio Gli piacciono le donne Non è che faccia Chissà cosa Di dire Apprezzato Mettiamo i puntini Sulle i No ma non è che Però comunque Sì Forse Forse Vedendo i tempi Che stiamo vivendo Adesso Potrebbe anche Essere anche per questo Insomma Comunque Sanji Personaggio più apprezzato Del live action Dal pubblico A me piace tanto L'attore devo dire Che è stato veramente Tanto bravo Perché si è fatto Un corso serio Di Taekwondo Di cucina Insomma Si è preparato molto Per fare questo ruolo E mi è piaciuto molto E anche tu Ovviamente Ah certo Io Vado a spadellare Gli anni Quindi Cuno era vantaggiato Cucina Insomma Favamo pinta Vabbè Io ho imparato A tirare la fionda Per ogni personaggio Per ogni personaggio C'è stata qualcosa Comunque Qualcosa dal giorno zero Il cazzare già Ero cintura nera Quello Allora Però è una qualità Alex Bisogna ammetterlo Cioè È una qualità Tocca a vedere Guarda Poi non andiamo troppo Ma Quindi Quindi Alex Con Usop Hai in comune Quello che hai detto Sì un po' La cretin L'essere un po' Cretino La cretinaggio E invece Alessandro Tu come te la cavi In cucina hai detto Un po' così No? Preferisci far così Forse l'eleganza Mi piace molto L'eleganza Ti rivedi nell'eleganza Infatti Come anche Prima dicevano Anche Alex Emiliano Anche Riccardo È È la mia zona di comfort Quella Al lavoro Ti piace Tutti le cose Però l'eleganza La cosa è un po' Più così Come poi A Sanji È È proprio La mia zona di comfort Sanji è sempre Molto preciso Elegante Quindi Alessandro Si rivede Nell'eleganza Di Sanji Alex Nella cretinaggine Riccardo Tu in cosa ti rivedi Abbiamo deciso noi Alex Nella cretinaggine Adesso chiede a ognuno In cosa si rivede È sempre bello Essere apprezzato No 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 Attenzione Non è Che è andato Del crinato Cioè Ho preso Devo prendere La lettera Ogni frattigione Infatti Essere un po' Alex ha detto Cioè Mi rivede Ha detto Lui io solamente Riportato Magari ha una buona mira Invece Stuta Quello è un cecchino Vabbè Adesso già mi immagino Nani Il man ha dato Il credinale No attenzione Metto le mani Guardate la In la fila Sì sì Riccardo Emiliano Voi in cosa vi rivedete Dei vostri personaggi Faccio iniziare Riccardo Dato che sta andando Al contrario Ok Cosa mi rivedo Con Coby Ma sicuramente Il fatto Di essere così Così dolce Lui è proprio Un personaggio È proprio dolcino Lui Poi era super Insicuro Timido E fa proprio parte Del personaggio Poi il superamento Di questi suoi blocchi No Però In realtà Questa sua Questa sua sensibilità Sì Forse Forse questo Infatti Ho risuonato molto Con il personaggio Da questo punto di vista Nel senso che Sicuramente appena l'ho visto Ho detto Ok sì Cioè So come farlo Nel senso Sono cose che Che mi vengono Anche piuttosto Piuttosto facili In confronto Ad altri più distanti Da me Perfetto Quindi la sensibilità Di Riccardo Emiliano Il tuo non è facile Trovar qualcosa In cui ti identifichi Anche perché È abbastanza È facilissimo È facilissimo Per me Adesso sono curioso È un coglione Ok La coglionaggine Vogliamo mettere Sì Assolutamente Tolto tutto il resto Che gli si può mettere Il fatto che è satico Che è completamente pazzo E cose del genere Il fatto che si scompone Vabbè ma quelli sono i poteri Chi se ne frega E al fatto che Almeno nel live action Ripeto perché io Non parlo dell'anima O del manga C'è quel momento Nel suo monologo In cui dice Finalmente Quando io diventerò Prenderò questo E sarò il più potente Di tutti E a quel punto Tutti mi ameranno Cioè nel momento In cui lo dice Quindi E l'attore lo diceva In maniera molto vera In quel momento lì E quindi Anche Il bisogno Di essere amato Mi ci posso riconoscere Ma quello è universale Insomma direi che Qualcuno di più Qualcuno di meno Però di fondo È un coglione E io sono molto Un coglione Nel senso che Rido per cazzate Mi vengono in mente Le cose da dire Nel momento più sbagliato E le dico Cioè È uno molto divertito Poi di fondo E io nonostante il fatto Che Abbia questa aura Evidentemente Un po' Me la cerco pure Un po' No Non lo so Insomma Di Shakespeare E cose del genere Che io di fondo Sono un coglione Cioè sono uno Che ride Dice cazzate Gli piace Gli piace Prendersi in giro E prendere in giro E questo è fondamentalmente La tour Eiffel Della coglionaggine È stupendo La tour Eiffel È adorabile Io lo adoro Cioè È proprio un personaggio Che mi piace molto Proprio molto molto Bene Vedi Devo ammettere Mi ha sorpresa Ma sembra un po' Una barzelletta Tipo c'era Un coglione Un cretino È un tedesco Esatto Bella però Bello Mi piace Allora Io poi lascio la parola Ai miei colleghi Chirio Invece Se dovessi scegliere Il personaggio All'interno Del live action Che più ti ha Affascinato Non tanto il tuo preferito Quanto quello più Che trovi Particolare Che ti ispira di più Conoscere l'arco Narrativo Successivamente Ma Corrisponde Al mio preferito Però effettivamente È il mio preferito Nel manga Ed è stato il mio preferito Anche nel live action E anche quello Forse dove mi rivedo Un pochino di più Ed è proprio Buggy È il mio personaggio Della saga di One Piece Preferito in assoluto Per tutte le motivazioni Che diceva Emiliano Per il fatto appunto Che lui comunque Davvero creda In cuor suo Di essere il migliore Del mondo Forse pur essendo consapevole Che non lo è davvero Però se ne convince O cerca di convincersi Questa cosa Mi piace tanto E poi è un personaggio Che Vabbè Inizialmente Non è un grosso spoiler Comunque inizialmente Sembra un cattivone Però in realtà Non è così cattivo Come appare Quindi anche queste sfaccettature A me piacciono molto E poi Comunque A livello proprio di A livello estetico Anche puramente estetico È un personaggio Super affascinante Le movenze Un mio amico Super esperto Di questa roba Mi ha detto Che è il personaggio Preferito di Yoda Che lui ha dichiarato Non so se si Lo sapevo per esempio Può essere Però che Quindi Evidentemente Un po' si sente Anche l'amore Dell'autore Verso questo personaggio C'è una bella storia Comunque dietro La backstory È sicuramente Tra quelle che preferisco Quindi Assolutamente buggy Buggy Ok Fantastico Allora Una domanda a testa Spanchi Andrea E poi andiamo Alla chat Prego Io farei iniziare Spanchi Perché con quel cappello Non posso non farle iniziare Anche per anzianità Che poi Pure sul palco Aspettando la seconda stagione Con questo cappello Come per anzianità Scusami Tu pure sul palco Ti sei messa quel coso Mentre presentevamo Un toe show Tutti serico Con Enzo Draghi Persona distinta Cantante di Lupen Lei c'aveva sto coso in testa Una cosa Non è vero Ce l'avevo con Schaffiro Perché Cioè Voglio dire Era in argomento Va bene Commentabile Stendiamo un velo Allora in questo anime Live action C'è la determinazione Che la fa veramente Da padrone Quindi mi viene da chiedervi Cos'è che avete raggiunto Con proprio una determinazione Assoluta Nella vostra vita Che vi ricordate Che potete condividere Vedi questa domanda Filosofica E inizierò da Alessandro Perché prima Hai aspettato tutto il giro Porre Stellini Beh Il mio lavoro Il mio lavoro Perché io ho ricominciato Tardi a farlo Come mestiere E quando ho ricominciato Nonostante Venga da una famiglia Che lo faccio Mi madre Aiuti Quello che ti pare Però In realtà C'è tantissima difficoltà Proprio personale Proprio emotiva Anche Sto ricominciando tardi I miei colleghi Della mia età Sono già Tutti E io Veramente Ce la faccio Però ero talmente Determinato Nel farlo Avevo un amore Ho un amore Talmente grande Per la recitazione Che La determinazione Mi ha portato Poi a A fare questo mestiere Bello Bello Grazie Alex Ma io Non lo so Se sono arrivato Forse no Nel senso Io questa determinazione La metto molto Chiaramente Nel mio lavoro Anche se Magari A differenza D'Alessandro Posso dire che Sarà sempre una costante Nella mia vita Sono partito da piccolissimo E Quasi non mi sono mai fermato Quindi Alla fine Succede un po' Che ti ritrovi In questo mondo Ti ritrovi Questo mestiere In mano E cerchi ovviamente Di migliorarti Di stare al passo Con tutto Con la crescita Perché poi più cresci Più Devi migliorare Perché un conto Da bambino Sì Non è che sono tutti bravi Però È più facile Poi quando crescono I personaggi che fai Devi crescere anche tu Con loro E non è Semplicissimo Iniziare a recitare In un certo modo Quindi Sicuramente Questo Però La determinazione Grossa Che metto Perché Mi sento Di dover fare Molta più strada È nella musica Per quanto mi riguarda Perché È la mia seconda Passione Al pari Del doppiaggio Della recitazione E Ce la sto mettendo tutta E già con la determinazione Che ho Qualche spizzietto Non sono arrivato Perché Qualche anno fa Ho cantato all'Arena di Verona Una mia canzone La mia prima canzone uscita Cioè Comunque è una roba grossa Che non mi aspettavo Senza nessun tipo di Etichette Cose Aiuti Ho fatto un contest E Col mio ukulele Sono arrivato all'Arena di Verona Con l'orchestra Quindi Già Questo è un piccolo traguardo Però Lo vedo come Un piccolo traguardo Perché non Ci vuole molto Però Vado avanti Con determinazione Vedremo Poi magari La prossima intervista Un'altra intervista Tra tanti anni Una delle tante Vi dirò che Questa determinazione Mi ha portato Al risultato che volevo Chissà Bene Bene Qua hai detto in diretta Hai detto in diretta Quindi che sarai Nostro ospite Per tante altre volte Che tornerai Quindi ormai La tendio Negli anni Si è ballato il sedere Ho detto anche negli anni Negli anni Senti ma Sì no Perché ho detto La prossima volta Tra tanti anni Poi sembrava che Volevo più tornare Esatto Esatto Ti sei salvato Un'altra volta Allora Visto che sei stato cattivo Ti faccio una domanda cattiva Quella della Cioè Sta sulla torre Chi butti di sotto Cioè Musica o doppia Ecco Allora No Me butto io Come uscirse Ne costile Da una situazione Sicilissima E scomoda Beh ma L'uso È così Lo vedi Lo vedi Guarda che rispecchia Il suo personaggio La grande Ma devo dire Che poi sentendo tutti Non so se Sono state fatte delle scelte Anche in base alla personalità Non lo so Però ci siamo trovati tutti Molto bene Anche Manuel Che è un amico fraterno Insomma Sì Lui pure è un cazzone Però Però c'ha questa Anche questa serietà Questo Questa corazza Che si mette un po' No? E quindi Su Zoro C'è sta pennello Perfetto Per esempio Mi viene come esempio Però insomma Ci siamo trovati tutti A nostro agio Devo dire Questa è anche La bravura di chi ha fatto La distribuzione Certo Certo Va bene Grazie Riccardo Determinazione Scopo Gol Spanchi Riformulano in azione Una domanda La domanda è Il tuo traguardo Il traguardo Che hai raggiunto Con la determinazione Oddio perché Mi hai messo in pisi Adesso devo rifare la domanda Cioè Riccardo Spanchi Si è scordata Dì la verità Si già se l'era scordata Che cazzo hai chiesto L'avete messo in pisi L'obiettivo L'obiettivo Che hai raggiunto Con più determinazione Nella tua vita Secondo me Era una domanda Differente All'inizio Però Beh allora Sicuramente Mi viene da pensare Che ogni giorno Adesso farò Tipo un discorso Super banale Però ogni giorno Comunque Con la Determinazione Che comunque Penso mi rappresenti Io sento di raggiungere Sempre nuovi obiettivi E vorrei che Continuasse a essere così Il problema Degli obiettivi Che mi pongo E che una volta Che li raggiungo Mi scordo Di averli raggiunti Cioè per me Non esiste più Sto già pensando Al prossimo Quindi non lo so Cioè per esempio Qualche anno fa Per me è stato Il raggiungimento Di un obiettivo Fare il primo film Per me da attore Da doppiatore Quindi Girare su un set Però Già non mi basta più Quindi diciamo La determinazione Ce la metto veramente Tutti i giorni In quello che faccio Per cercare di fare Sempre meglio Perché Questo è Quello che voglio fare Voglio sempre avere di più Voglio Perché secondo me Se smetti di pensare così Ti appoggi E quindi non lo so È un po' come One Piece Che non finisce mai In One Piece Non si saprà mai Che cos'è Non lo so Allora io Stessa cosa Non so mai Se ho raggiunto Quello che voglio E questo è il One Piece Cercare sempre di più E questo è il One Piece Esatto Il prossimo obiettivo Molto bene Grazie Riccardo Di questa tua risposta Che è un po' filosofica Grazie Emiliana La tua domanda È molto interessante E molto Complessa E stratificata Se uno dovesse prenderla Fino in fondo Seriamente Cosa che io Non si ricorda Quando la devi rifare Capito Ma non è vero Mi ero solo impicciata Sono d'accordo E Per cui Sai Rispondere come mi sentirei Di Perché mi ha intrigato Come domanda Molto Probabilmente Più di quanto Puoi pensare Probabilmente dovrò Stavo dicendo Proprio questo Nel senso Che se dovessi rispondere Come mi ha stimolato La domanda Questo potrebbe Rapidissimamente Diventare il luogo Meno adatto Affinché io Porti avanti Questa risposta E Conseguentemente Per adesso Oltre a dirti Grazie Perché davvero Mi sta facendo Dando spunto Di riflessione Importante Ti rispondo Con delle cose vere Nel senso che sono Non arrivano fino a quel Grado di profondità Ma sono cose vere Nel senso che Io sono figlio d'arte Quindi comunque Anche se non ho cominciato A recitare Diciamo professionalmente Prima dei vent'anni Circa Però comunque Ho sempre Pazzicato La recitazione I miei primi ricordi Sono delle quinte Di un palco Le maschere Appese Le cose Insomma Quindi Io abbia scelto Perché per un lungo periodo Invece non volevo Saperne niente Ho fatto tutt'altro Studiavo pianoforte Volevo fare Un sceneggiatore Stavo entrando Al centro Sperimentale Faccio tutt'altro Poi a un certo punto Ho deciso Di fare L'attore Grazie anche All'Incast E le esperienze Che mi sono capitate E ci ho messo A determinazione Perché da lì in poi Insomma Come quasi tutti I miei colleghi Come quasi tutti Quelli insomma Che conosco Anche se si ritrovano Con un mestiere Che lo impari Senza accorgere Magari lo cominci da piccolo Come tanti di voi Che hanno cominciato Da bambini A doppiaggio Poi ci devono mettere Un certo tipo di Invece Di determinazione Di investimento Cotidianamente Come dice Riccardo Lui anche nella sua vita Personale Poi lo fai anche sul lavoro Però Non mi basta Nel senso che Dovrei per forza Andare Cominciare Andare un po' più a fondo E doverti dire Che Dove sento Di aver messo Veramente Determinazione È stato Un certo momento Della mia vita Direi Un dieci Quindici anni fa Quando Per una sequenza Di cose Mi sono ritrovato A scegliere Di usare Quello che mi stava capitando Mettendomi Completamente in crisi Cioè cambiando Anche grazie a chi c'avevo intorno Anche grazie a sofferenze Casini Errori Eccetera Però Di mettermi in discussione E iniziare a cambiare Il modo in cui io Fondamentalmente Percepivo Le cose E reagivo Alle cose Quindi Come percepivo Anche me stesso E fondamentalmente Quindi per cambiare La mia condizione Proprio di base Di vita E questa è stata la cosa Che ho seguito sicuramente Con più Determinazione Avendo poi alla fine I risultati Che non sono quelli finali Perché spero Che il percorso Non finisca mai Ma sono sicuramente Dei risultati Tangibili E che hanno Cambiato molte cose Nella mia vita Quindi su te stesso Beh interessante Mamma mia Fatele voi ragazzi Queste domande Che scaturiscono Tutte le domande Ma poi non te la ricordi È inutile Che fai la figa Vedi come se la tira adesso Emiliano Tu non gli devi Fatti questi complimenti Però Perché sennò Inizia a alzare la credita E loro mi maltrattano sempre Quindi se mi arriva Il complimenti Lo so Infatti Ho sempre Ti fanno per te In realtà Che si accaniscono Troppo Questi ragazzi La vuoi Alex? Perché Alex Se tu supporti Gli ultimi in classifica Cioè Hai detto Vabbè La carinella Magari ce la farà L'underdog In realtà Ma in questo caso Perché Vabbè che io Magari voi La vedete tutti i giorni Quindi capisco Tutti i giorni Già sta ritornando La sua posizione Va bene Va bene Io sono così Un minuto è durato Il complimento Dai Un minuto è durato È vero Ha fatto la sua parte Sì Chirio invece Il tuo obiettivo Che hai raggiunto Con la determinazione Proprio epica Questa volta Se l'hai ricordata Alla perfezione Per forza Ero tanto Che ho ripetuto Anche da solo No io In realtà Sono molto 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 d'accordo Con quello Che ha detto Riccardo Perché io Sono come lui Cioè appena Raggiungo un obiettivo Presunto tale Ecco io già dico Presunto tale Per esempio Vado Con la testa Al prossimo Non mi accontento Veramente mai Penso che questo Sia un difetto Non so come la vive Riccardo Ma per me È un difetto Nel senso che comunque Tendo a godermi Poco il momento Molto molto poco E questo lo vorrei cambiare Del mio carattere Però appunto Come diceva poi Emiliano Se andiamo a vedere Quelli che sono Degli obiettivi Veri e propri Diciamo anche tangibili Sicuramente Avere scritto un libro Sulla storia del manga Che è quello di cui Mi occupo da una vita È la La cosa più bella Che io abbia fatto Per quanto riguarda Proprio gli obiettivi tangibili E anche Andare in Giappone Con i miei iscritti Al canale È stata Un'esperienza incredibile Quindi queste due cose Però Sono d'accordo Che il vero obiettivo Deve essere quello Di migliorarsi costantemente Infatti Sono sempre alla ricerca Di nuovi format Nuove idee Anche nuove piattaforme Per esempio Ora mi sto concentrando Un pochino più Su Instagram Magari con i Reel Perché vedo Che comunque è una cosa Che dà Diverse forme espressive Da ricercare Anche con la sfida Magari di farli In 30 secondi Un minuto Io che faccio anche i video Di 30-40 minuti Un'ora Perché li faccio Begli approfonditi È una sfida Fare un video di 30 secondi Però Devi provarci Secondo me Perché comunque Il pubblico di oggi Spesso Va alla ricerca Di quel tipo di contenuto Super easy Super catchy Super Che ne puoi vedere Anche 30 In In 10 minuti Su TikTok Su Instagram È così triste È una cosa Proprio che io Guarda Mi distrugge Proprio la Ma sai cosa sto facendo Io Alessandro Però sto cercando di fare Il contenuto di 30 secondi Un minuto Che però Tu arrivi alla fine E ti rimanda Al video più a più Esatto No no ma Tu fai benissimo Guarda pure io In senso che anche io Sto affrontando Questo tipo di problematica Cioè la via di mezzo È quella Però oggi La società d'oggi È veramente triste In questo È così È la soglia Dell'attenzione La soglia dell'attenzione È bassissima Veramente Anzi Da quello che so io Cioè uno dovrebbe Catturare il pubblico Nei primi Cinque secondi Cinque dieci secondi C'è È quello È uno Anche per uno Della mia generazione Sicuramente è ancora più difficile Perché magari No per una persona Per uno nato oggi Giustamente Fai le cose approfondite C'è uno studio dietro È disarmante Io la vivo così No no ma è così La vedo anche io così Cercando di mettere un po' Di trovare una quadra Io dico Va bene Magari faccio un reel Di 30 secondi Dove Cerco di dare Magari una curiosità Che è quella Che può acchiappare Di più Di più il pubblico Su quell'argomento Di cui tratto magari Nel video Di 30 minuti E alla fine dire Se volete approfondire Se vi va di saperne di più C'è il video Chi rimane a vedere Quei 30 secondi Ha visto quei 30 secondi Lì poi va da persona a persona Non voglio neanche generalizzare Dicendo che tutti i ragazzi Più giovani Siano così Perché ne conosco tanti Che approfondiscono Però quello che dice è vero Di base Statisticamente La sua attenzione Ha fatto un balzo Verso il basso Incredibile Purtroppo sì E no è questo Anche Cioè Mi trovo d'accordissimo Con voi Anche perché poi Il contenuto No è importante Cioè secondo me Il contenuto Deve lasciarti qualcosa Deve Deve anche Approfondirti Non qualcosa Su cui tu hai una curiosità E io vedo delle cose In tempi brevissimi Che effettivamente Non ti lasciano niente Ed è un peccato Che si stia Sempre tendendo A ridurre i tempi E tralasciare Secondo me Delle parti Che ti arricchiscono In un modo o nell'altro Chiunque Nel suo campo Poi Perché questa È una tendenza Generalizzata Ovunque Sì sì Purtroppo Sì Ok Andrea La tua domanda E poi Apriamo velocemente La chat Io voglio farvi Una domanda Che Ti adatto Una domanda Che faccio spesso La faccio prima Nella versione Per I doppiatori E poi Chi ti ho riadatto La domanda Anche Perché Perché La determinazione Ma quindi Volevo chiedervi Se doveste scegliere Un unico oggetto Per rappresentare Sia voi E uno Per rappresentare Il vostro personaggio Il personaggio Che avete doppiato Quali sarebbero E perché Esatto Uno che rispecchia La persona E l'altro Che rispecchia Il vostro personaggio Di One Piece Un oggetto Un oggetto Questa è serena Demande cattivissime Ha messo in crisi Dottima Allora Io qua farei Andrea Se siete d'accordo A chi vuole iniziare Perché È cattiveria Perché ho accettato Di venire Per Kiryu Invece Nella versione classica Ovvero Un oggetto Che ti rappresenti Sostanzialmente Un unico oggetto Chiaramente È un oggetto Legato al personaggio Che doppiamo Per noi No no Non per forza Ah no Non per forza No no Però che è C'è un oggetto Generico Che però è collegato Anche al personaggio Che doppiamo Uno che Che rappresenta No Sono due Sono due Uno Ah ok Uno che rappresenta Uno È uno Il personaggio Riuscire a mettere In crisi Che spanchi Devi fare il lavoro Doppio Questo è il mio Questo è il mio Ok Il primo oggetto Ce l'abbiamo Alex è rappresentato La maglia Della Roma Posso cambiare La domanda Se vuoi Posso cambiare Scherzo Scherzo No 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 Ormai Ormai Mi viene in mente Un oggetto generico Che è il libro Fondamentalmente Quindi il libro Come romanzo Il libro Come fumetto Il libro Come testo Da cui imparare qualcosa Che sia Divulgativo Ma anche Semplicemente Intrattenente Quindi Un'avventura Perché mi ha sempre Accompagnato Da quando ero piccolo Comunque Uno dei primi ricordi Che ho È legato Ai piccoli brividi Che leggevo In macchina Quando Andavo Da una parte All'altra D'Italia Perché Abitavo in Calabria Prima Avevo dei parenti In Toscana E quindi Facevo su e giù E io dietro Ero sempre Per leggere I piccoli brividi Poi da quando Ho scoperto I fumetti Non ne parliamo Perché insomma Sono diventati Parte della mia vita Tante tante ore Al giorno Quindi sì Se dovessi scegliere Un oggetto È proprio L'oggetto libro Un bel libro Beh abbiamo avuto Risposte Veramente molto variegate È stata Dalla caffettiera Pagina bianca C'è stato un po' di tutto Un'agenda L'ukulele Una valigia Sì Veramente tantissime Risposte Varie Ok Andrea Chi è il prossimo Oh no Adesso mi sento La pressione De dove da Io sceglierei Alex Però vai te Allora Facciamo l'alzata di mano Chi vuole scegliere Alex Eccomi Ci saranno anche Ma io non so bene Che dire Quindi ne dirò Cinque No Perché potrei essere Banale Se dicessi Tipo il microfono Però io intenderei Più il microfono Di quel gelato Perché Ho Forse qualche flash Ma più che altro Ricordo di un video Fatto con la videocamera Negli anni Tipo nel 97 Sì C'ho un video Del mio compleanno Che ho fatto due anni In cui mio padre Continuamente Mi dava in mano Sto cacchio di microfono Perché io dovevo Cantà Cantà E cantà E quindi Questo microfono Poi si è trasformato In un microfono Da studio Quello che usiamo Al doppiaggio E quindi In effetti Il microfono Fa parte della mia vita Da sempre In tutte le cose Artistiche Che faccio E forse Nelle uniche due cose Che faccio Decentemente Perché non so Fai nient'altro Praticamente Quindi Negli sport Sono legato A cucinare Non so capace Quindi Se dovessi fare O anche un'arte Diverto Non so ballare Quindi In effetti È lo strumento Che uso più spesso Che usop Più spesso E dopo questa Abbandono Abbandono No Beh scusate Però qua sta rientrando Nella definizione Che ha dato prima No ma tu gli vuoi mettere In bocca Sta cosa Della cretinagine Smettila Mauro Smettila Di mettere il dito Nella piazza Che è successo Ti sei offeso Ma io stavo scherzando Si è buggato pure E qua Si è buggato Alex ti prego Non ti offrendere Non andare via Ma ci sono? Si si ci sei Ci sei Ah ok No e quello E poi Che ne so Invece un Di usop Una cosa che comunque Mi accomuna Perché porto sempre il cappello E la sua bandana Insomma Il suo coprecapo Non so che Come chiamare Una bandana Che è Una bandana Una bandana Vabbè Non vorrei sbagliare Perché qua No fai bene Fai bene Metto sempre le mani avanti Una sagroppia Come? Una sagroppia Ignorante Sagroppia Esatto Va bene E quindi quello Perché insomma Io porto spesso i cappelli Quindi Non so La sei cavata La sei cavata Ne sei uscito Li uso Anch'io Basta Esco Ciao Se non avevamo Ben compreso Prima Adesso Emiliano L'ha ripetuta Perché Emiliano è morto Dentro due volte Cioè si è proprio visto L'espressione Dolorante Mi diverto molto In realtà Ok Andrea Io quindi Lascerò la patata bollente Adesso la d'Alessandro Così Allora io te ne dico Due Sia per me Che due per il mio personaggio Perché non saprei Fare diversamente Uno è il palcoscenico Palcoscenico Inteso proprio come Come luogo Ma come Come veicolo Di quello che amo di più Recitare Quindi che sia su un palco Che sia In sala Dietro a un microfono Davanti a una macchina Recitare E il secondo È il joystick Perché io sono Un appassionato proprio Dei videogiochi Da sempre Ed è uno Dei Delle cose Che mi Mi libera di più Proprio In assoluto Per quanto riguarda Sangi La cravatta Perché mi piacciono Molto i completi E vestiti Così E purtroppo Le sigarette Perché sono stato Lo sono adesso Con quella elettronica Ma sono stato Un fumatore Accanito Per diversi anni Quindi I miei amici È la prima cosa Che mi hanno detto Ha detto Vabbè Come te Praticamente Da sempre Bocca Quindi Purtroppo Perché fa malissimo fumare Non bisogna fumare Però Sono onesto E ti dico la verità Va bene Nel frattempo Alex si è offeso Che continuavo Probabilmente A dargli del cretino E quindi Ha detto Vabbè Ho detto tutto No in realtà Io ho fatto la battuta Perché dovevo andare in bagno Ah bella Ma potevamo Tenere in chiare La cosa Che ti eri offeso Per meglio Sì Voi sentite me però Sì Ti sentiamo Quindi posso fare battute Comunque Aspetta Come se poi faccio Ah forse così Vediamo Vediamo se risolve Sì hai tolto il microfono L'hai tolto Hai tolto il microfono Così non ti sentiamo Hai escluso il microfono Io direi di uscire Andrè Usa Usa il cartello Tipo Che era Nottinghilla La fine Nottinghilla Non sento niente Esci Esci fuori E rientra Qualcuno sa la lingua Esci fuori E rientra Va bene Nel frattempo Nel frattempo Che Andrea scrive ad Alex Noi facciamo rispondere Chi fai rispondere adesso Andrea Riccardo Riccardo Non sento Esco Esco e rientro Sì Ottima idea Ok Ciao Allora Allora io dirò Una risposta Unica Per me E per il personaggio Ho deciso Che farò così Però è una cosa generica Allora È un oggetto Però È una parola Che racchiude più cose Il gioco da tavolo Mi viene in mente questa cosa Perché Adesso vi spiego A parte che io sono Un grandissimo appassionato Di giochi da tavolo Sin da piccolo Ma poi Come Emiliano In realtà Mi disse una volta Proprio Nelle sale Quello che noi facciamo È un gioco Cioè noi ci mettiamo lì E recitiamo È tutto È come quando si era piccoli E si faceva Facciamo finta che io sono Ok Tipo un gioco di ruolo Tipo Dungeons & Dragons Che io ci gioco Assiduamente Ed è un gioco da tavolo No? Emiliano mi guarda così Perché è esattamente Quello che Penso che Condividiamo Insomma E perché Lo dico anche per Kobe Perché Qui ti ho fatto Un collegamento Il collegamento Al gancione Ho apprezzato Che Kobe Riesce a superare Il suo blocco Il Ciò che Insomma Il suo limite più grande Che è Quello di Non riuscire a A sentirsi Come si dice Cioè lui Ha tutte le capacità E il talento giusto Per riuscire Ma pensa Di non essere capace Di farlo E quindi manca Di decisione Di determinazione E Riesce a superare Questo suo limite Tramite Un gioco da tavolo Il più classico di tutti Cioè gli scacchi E infatti C'è tutta la scena Della partita scacchi Con il capitano Che Culmina proprio Con Il suo Superamento Di questo blocco E La fine Dell'arco narrativo Insomma Di Kobe Ok Io Faccio entrare Alex con una chicca Guardate il nome Che si è scelto No Ma no Una chicca Questa è colpa tua Mauro Ma che colpa mia Io semplicemente Scusate Io semplicemente Tutti Io ho riportato Delle parole Che ha detto lui Cioè non mi sarei mai Permesso di dire Una cosa No no Ma poi si è rivelato Essere un appellativo Mazzeccato Che avete detto Ho saltato Qualche domanda Scomoda No In realtà Sulla risposta Di Riccardo Hai saltato Però sta arrivando La risposta Mannaggia Del palcoscenico Antonomaggia Il gioco di ruolo D&D E il gioco di ruolo Rappresenta Una delle svolte Epocali Nella mia vita Che mi ha Proprio segnato Tutta una sequenza Di cose Che sono successe Da quel momento in poi E continuo a giocare Di ruolo Tutte le settimane Scrivere Farsi Quindi è una roba Abbiamo fatto Giochi di ruolo Appunto Con usci È una parte importante Della mia vita Anche della mia quotidianità E poi perché Il dato al 20 Rappresenta anche Secondo me Molto bene Io spesso Quando mi devo definire In qualche modo Con qualcuno Spesso uso questa metafora Dico che io sono Mi sento un po' Come un condominio Cioè io quando Quando parlo Quando affronto le cose O devo fare delle riunioni Di condominio Perché dentro C'è uno stabile Di persone diverse Che convivono Perché devono convivere Ma insomma Ognuna è diversa C'ha i cazzi suoi Le cose che gli piacciono Le cose che non gli piacciono Le cose che fa Quelle che non fa Eccetera eccetera E il dato al 20 Facce rappresenta Abbastanza bene Anche questa Frammentarietà Se vogliamo In una quale Io mi riconosco molto E sempre da questo punto di vista Io ho anche l'oggetto Per buggy Che secondo me È anche imparentato In questo senso Ma è molto rappresentativo Suo Solo che non mi ricordo Come cazzo si chiama Questo è il problema Perché L'oggetto è Uno di quei vasi Giapponesi Che Dice che si creano Utilizzando la tecnica Di mettere l'oro Nei pezzi E quindi Un vaso rotto Viene rimesso insieme Ridiventa qualcosa di diverso Di ancora più prezioso E di più bello Rispetto a quello che era prima Solo che non mi ricordo Come si Nella tecnica Esatto Esatto Continua Non ricordarmelo Anche se me l'hai detto Perché è un suono Che non riesco Non riesco ancora A assimilare Però quello lì Per me Un vaso Di quella Insomma Ricreato Con quella tecnica Su me rappresenta Molto bene Sia Il potere Di buggy Il fatto che si scompone Eccetera Sia quello che c'ha dentro Vedi Che belle risposte Che sono uscite Mi piace Mi piace Mi piace sta domanda E che tira fuori risposte Mai banali In realtà Perché poi Quello che dici Cioè La risposta che dai Con dietro la motivazione È sempre interessante È sempre diversa Nonostante magari Possano capitare Gli stessi oggetti Le stesse cose Per più persone Ok Va bene Va bene Allora Io adesso aprirei Questi ultimi 20 minuti Alle domande della chat Quindi Ne sono arrivate un bel po' Io ne vado a pescare Proprio a caso Cioè Quindi non Ecco Adesso è arrivata Proprio una Adesso Premierò Diciamo La prima Sicuramente Qualcuna in mezzo E poi l'ultima Che arriverà Poco prima di staccare Così Vi evito anche La sigla Quella solita Perché non ha bene Meno male Insomma Quindi Ve la evito solamente Perché voglio fare Più domande possibili Cioè no Scusa Che peccato Perché è peccato Allora È venuto dal cuore Proprio Quello è meno male Sì no Amore e odio Con quella sigla C'era del pregresso Esatto C'è il tipo Sulle note del limbo È carina Va bene Comunque Prima domanda Willow Buonasera al man Quella di Tommy Non la faccio Perché l'abbiamo già trattata Willow Buonasera al man Agli streamer Ai nostri fantastici ospiti Qual è il one piece Della vostra vita Ossia quel tesoro Ossia quel tesoro Che vorreste raggiungere Io Interessante Vedi Oh Anche loro Sono diventati filosofici Comunque Io Io ho pensato Anch'io A una domanda simile Poi ho letto Che l'hanno fatta loro Ho detto no Se no mi dicono Che rubo le domande Dalla chat Esatto Quindi io Andrò Non faccio come loro Io vado proprio in senso Così Quindi da Alessandro in poi Alessandro Basta Comincio sempre io Che le domande Se vuoi Faccio il giro da Chirio Dimmi Dimmi La titolarità È una domanda Difficilissima Penso che nella vita Una persona Abbia pure più di un obiettivo No Forse quello più importante È la famiglia Per me La cosa che conta di più In assoluto Poi il resto è È importante Ma secondario Ok Quindi Quello è il one piece Della mia vita Il tuo one piece La famiglia Ti chiamo Alex Anche se c'è scritto In altro modo Alex Eh beh Vorrei vedere Io in quanto cretino Non so rispondere Molto bene A questa domanda Però Anche i cretini Sognano Che ti devo dire Mi vengono a mente Solo cose banali Eh Il one piece Sicuramente Sì Il valore della famiglia È molto importante L'idea di Un domani Di Di avere Di creare io Una Un nucleo familiare Bello Come è stato il mio Questa è una cosa Che mi accodo Però ne dirò un'altra Anche in più Perché se no Sembra che copio E Il mio one piece Sarò Materiale Non lo so È vedere È vedere una folla Di persone Che cantano La mia canzone Che voi devo dire È il mio Soprattutto Cavolo Ti pare poco È una folla grande Da stadio Certo Olimpico Ti pare poco Cavolo È io così Che ascolto Sì come quelli Che fanno gli stadi Appunto È loro che cantano Questa è una mia Senti One piece Bello Bello Mi piace Alex Riccardo Qual è il tuo one piece Ma guarda Io collegandomi Al discorso di prima Come La famiglia Quello con cui Poi si è collegato La famiglia La famiglia Io ogni Basta Che faccio Una cosa Con Alex Finisco Per ridere Non riesco Più A Oddio Comunque No Dicevo Punendomi Sempre nuovi Obiettivi E guardando Sempre Un po' Insoddisfatto Magari A quello Che faccio Il fatto È che qualche Volta Mi faccio Quest'immagine Che un giorno Io Cioè Quando io penso A un obiettivo Della mia vita Io mi immagino Che ne so Rilassato Sereno Che mi dico Oh Ce l'ho fatta Però secondo me Non arriverà mai Questo giorno Cioè sono abbastanza Convinto Che non Sono insoddisfatto Non lo so Però Diciamo che Quest'immagine Di Di volercela fare In quello Che faccio In quello Che In quello Che amo Mi nutre Mi fa andare avanti Il problema È scoprire Che cosa vuol dire Avercela fatta Perché ogni volta Diventa sempre Più grande Sempre Un altro Come si dice Un'altra isola Da raggiungere Ok Andiamo Fare un Wow Rimanendo In me Bene 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 Emiliano Bravo Buongiorno No Ho sentito Qualcuno Diciamo Eh Sapete che Non saprei bene Rispondere A questa domanda È però Molta Scusa No Posso sempre Posso sempre Dire alla famiglia Perché io ho Tra l'altro Ho due figli Meravigliosi Che sono Oggettivamente Realisticamente Un mio one piece Nel senso che Una delle mie Ma non sono neanche Però Non è proprio del tutto Calzante Perché non è Una cosa Per la quale Alla quale Tengo personalmente È proprio come dire Che Per te è importante Ricordarti di respirare Cioè io fondamentalmente Vivo pensando A Dove vanno Cosa 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 sono Cosa sentono Cosa Cosa imparano Cosa non imparano I miei figli Insomma Quindi Quello è Oggettivamente Un obiettivo Costante Però Dovendo parlare Per me In maniera Un po' più Egoistica Credo che abbia Qualche cosa A che fare Con il lavoro Che sto facendo In questi ultimi anni Su me stesso Cioè Il L'imparare Sempre di più Non a togliere Le difese E non parlo Soltanto Da un punto di vista Recitativo Che è sempre Un bel plastico Della vita In generale Però insomma Non parlo soltanto Da un punto di vista Professionale Artistico Di recitazione Parlo anche Proprio da un punto di vista Di vita Di relazione Con te stesso E con gli altri E non parlo Di imparare A togliere i filtri Parlo di imparare Piano piano Sempre più A riconoscere A trovare Quali sono Le tue difese I tuoi filtri Le tue paratie E semplicemente Essere sempre più Capace A scegliere Di aprirle Quando serve E chiuderle Quando serve Ok Che dire Chirio Io credo Un'altra volta Di essere abbastanza D'accordo Con quanto ha detto Riccardo Fondamentalmente È un copia In colla Della sua risposta Perché Questa cosa Di cercare Di raggiungere Sempre obiettivi maggiori Comunque In qualche modo Ti fa mancare Un po' di Serenità Forse In genere Cioè Quella serenità Che ti fa dire Sono arrivato A un certo punto Comunque senza Vantarsi Di quello che si è fatto Però comunque dire Essere anche obiettivi Riguardo a se stessi A quello che si è raggiunto Quindi dire Ho fatto delle cose buone Sto facendo cose Interessanti Questa è una cosa Che io non dico Letteralmente mai Per nulla Di quello che faccio È così Non c'è niente Di quello che faccio Che riesca veramente A convincermi Al cento per cento E Tanto che infatti Io mi sono tatuato Un Daruma Che è questo Essere mitologico Giapponese Che Si dice che Gli devi dipingere Un occhio Esprimendo un desiderio E poi Riempire l'altro occhio Quando questo desiderio È raggiunto E il mio desiderio Era molto generico Quindi raggiungere Una serenità Una stabilità mentale Che probabilmente Non arriverà mai Io l'ho fatto già conscio Che non lo riempirò mai Che il tatuaggio Perché È talmente tanta La voglia Di fare di più Di fare sempre cose Diverse Nuove e migliori Che probabilmente Non lo Non lo troverò mai Questo Questo One Piece Quindi Non saprei Cioè La ricerca È una serenità Che Agogno Ma Sono abbastanza conscio Di non trovare mai Che non lo troverò mai Ok Adesso Cerco di trovare Qualche domanda Un po' più leggera Meglio Tu prendile a caso Però Le prendi a caso Tra le leggere Facciamo così Mister Lannister Dai Kirio Dillo che il tuo One Piece È la famiglia È la famiglia Perché non volevo Copiare gli altri La famiglia Mister Lannister Buonasera Il grandissimo Vena ragazzi Ai nostri graditissimi ospiti Vorrei chiedere a Kirio Qual è la scena Che più gli è piaciuta Del prodotto Ai nostri ospiti Del mondo del doppiaggio Qual è la scena Invece che più Vi è piaciuto doppiare E vi è rimasta più impresso Del vostro personaggio Ho fatto iniziare Alessandro Adesso faccio iniziare Kirio Ma del live action Immagino Sì 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 Si riferiscono Nel live action Cioè sono diverse Che mi sono piaciute Forse quella più D'impatto Anche così Magari estetica Proprio di Di combattimenti Penso che Lo scontro Con Mi-Hawk Quindi Zorro e Mi-Hawk È una delle scene Più fighe In generale E Però Una scena che non mi aspettavo Invece il bacio di Usopp Quella è stata Carina E Inaspettata Quindi anche quella lì Due scene molto diverse Ma sono quelle che mi sono più Rimaste impresse Ok Ok Emiliano invece la scena È più ti è rimasta impresso E ti è piaciuto doppiare Ma sai Qui non c'è moltissimo In questa In questa stagione Qui Quindi Cioè le scene Sono più o meno quelle In cui poi si vede parecchio Mi verrebbe da dire Quella in cui Si presenta E fa lo show Cioè la volta in cui Lo si vede Che che No 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 Che cazzo fate E poi fa tutta quella Tutta quella scena là Che oggettivamente E' una delle più lunghe Una delle più Ricche E poi si vede Tutto quello che ti raccontano Di lui C'è anche lì Quel pezzo in cui Va più sulla sua verità interiore Del fatto che Fondamentalmente Uno che cerca di essere amato In modo peggiore possibile Ma È quello che sta facendo Non so perché Questo comunque lo dico Cioè è vero Questa è quella che È anche più lunga Quindi anche tecnicamente È stata più figa da fare Perché c'è più Possibilità Più campo di movimento Non so perché Non so spiegare perché Ma a me È rimasta impressa Nel senso che continua Io ogni tanto Me la ridico in testa Mi ripassa in testa Uno dei miei inquilini Uno dei miei inquilini Nei miei condomini Evidentemente La dice sempre a voce alta È Quando viene Quella scena piccola Quando lui viene Tirato fuori Da solo la testa Viene tirata fuori Dal sacco Che casca lì E fa Ciao Ma tipo una cosa del genere Non lo so perché A me quella cosa Mi ha fatto molto ridere Ma Mi continua a rimanere Impressa E mi continua a tornare in mente Non so perché Quindi Probabilmente quella Quell'unica battuta All'anzo Ha fatto molto ridere Anche me però Devo vedere Quando è uscita Mi ha fatto molto Molto ridere Io invece di quella scena Quando dici qualcosa Sulla sabbia Mi è rimasta impressa Sì Perché non rimane Dentro nel sacco No ma è bagnato E più sabbia Non può fare niente Certo Ora Sì Ok Allora Riccardo Allora A me viene sicuramente In mente Che sono Due scene Che secondo me Sono connesse La prima volta Che Kobe Saluta Luffy E quindi Gli dice Potremmo Rincontrarci Ma da nemici E poi La scena finale In cui Si salutano Nuovamente Comunque Sono due personaggi Che si incontrano E si dividono Poi si rincontrano E si dividono Di nuovo E hanno due strade Parallele Ma che alla fine Non Non diventano mai Unite Perché in qualche modo In realtà Sono in due Fazioni opposte Quindi Queste due scene In particolare Quindi proprio L'ultima scena In cui si salutano Sono quelle Che mi sono rimaste Più impresse Soprattutto Per questo Suo modo Così Perché l'attore In originale Secondo me È stato Molto bravo In questo In questo suo modo Così poetico Di Di salutarsi Però anche Alla fine Semplice Lui usava Questo tono Di voce Sottile Quasi Veramente Il minimo Indispensabile Solo emozioni Capito Non c'era Non c'era niente Di strutturato Sopra Mi piaceva molto Ok Alex Io molto Semplicemente Ho amato Tutte Tutti i suoi monologhi Super romanzati Su ogni cosa Che vive Soprattutto Soprattutto Quando è ubriaco Mi sono divertito Molto E È stato Molto divertente Insomma Vedere come Veramente Da Da una minima cosa Perché un fondo Di verità C'è sempre Che poi viene Totalmente Alterato E romanzato E quando si prende I meriti Di tutto All'inizio Quando racconta Un po' Una delle sue storie A Una ragazza Che ora non mi ricordo Il personaggio Come si chiama Cara Nami Cara No no Cara Perché si presenta Un po' così Con una di quelle scene Lì E poi E poi Il corso del tempo Ne fa di tutti i colori Soprattutto Poi verso la fine Racconta Come sia stato Praticamente Tutto merito suo E gli altri Gli sono andati dietro E quindi Mi diverte molto Questa cosa Ogni volta Che c'era Uno di quei monologhetti Ero molto contento In realtà Sono stato anche Molto felice Che però Verso la fine Insomma A livello proprio Di combattimento Riescio a fare qualcosa Di decente Che fino a quel momento Diciamo Ma questo Fa niente Poi non conoscendo Bene il personaggio E invece Poi contro Uno di quegli Uomini pesce Insomma Scorgetemi se sbaglio Nomi Perché non sono un po' Giusto Tutti gli uomini pesce Esatto Insomma Riesce a ingannarlo E quindi Lì fa vedere Veramente Qual è Il suo vero potere È proprio riuscire A bleffare A ingannare Con i suoi modi I nemici E quindi È un'arma È un'arma molto potente Che spero poi Verrà sviluppata meglio Anche nelle prossime stagioni Ok In chat Luca e Alessia Dicono Caglia non cara Vabbè ma L'ha detto Caglia infatti Cara non me la ricordavo Ma l'ha detto Spanchio Ma è del mestiere questa Io sai quanto Ma lei intendeva La cara Caglia La cara Caglia Poi fa pure La super fan Con dietro Tutti i manifesti Ma anche i nomi Di versare Vabbè ma Quello è un personaggio Non mica c'è quello De Caglia Lasciamo perdere Lasciamo perdere Ora ecco Voglio sfidarmi E più di mille episodi Cioè per quanto Se fanno Voglio di È vero Però del live action Sa solo otto Me sembra È vero Alessandro Qual è stata La tua scena Preferita Ma l'introduzione Del personaggio Quando Accoglie I protagonisti A Baratì Sicuramente Mi è piaciuta Molto anche Quella Del saluto A Zef Anche se devo dire Onestamente Che l'ho apprezzata Di più Nel manga E nell'anime Quella scena Tutto che è stata Fatta bene Però Forse l'introduzione È quella che mi è piaciuta Di più Ok L'introduzione Allora andiamo a fare L'ultima domanda Andiamo in chiusura Di questa bellissima live Perché ovviamente Tutte le cose belle Prima o poi Hanno una fine E soprattutto Che non bisogna Sequestrare E non torneranno Mai più Quella è la prima Regola Però va bene E l'ultima domanda Mi piace molto questa Perché di tanto in tanto Si ripresenta Negli speciali E Ai nostri doppiatori Chiedono Quale altro personaggio Avrebbero Preferito doppiare O sceglierebbero Di doppiare Escludendo il proprio Quindi su quale altro Di questa serie Si vedrebbero bene Non potendo Scegliere il proprio E a Kirio invece Chiedono Cosa si aspetta Da La stagione Che verrà La prossima stagione Adesso vado Ho fatto iniziare Kirio Quindi Alessandro Io? Sì Dove ti vedresti? Tolto Sanji Ma te lo dico La verità Io sono contento Con Sanji Non saprei vedermi Su un altro Personaggio E no E io pure Sono contento con Baki Ma se la domanda è piena Ti vedi un altro personaggio Che cazzo fai Bari? Eh dai C'hai ragione C'hai ragione Eh c'è Brutti i torti Non ce l'ha però Cazzo È difficile Non lo so Ma E per tutto One Piece Oppure solo per il live action Io direi per il live action Cioè la domanda è rivolta Sul live action Però tu se vuoi Puoi estenderla Vai Chi vuoi essere Dice Allora Nonostante la mia zona Di comfort È quello che dicevo L'eleganza Però mi piace tantissimo Fare anche i coglioni E i personaggi Un po' più Matti Più folli Quindi Il lavoro fatto da Emiliano È qualcosa di Ovviamente superlativo E degredito Però A chi mi piacerebbe Un personaggio del genere Perché mi piace Fare il pazzo Diciamo Ecco Quindi mi piacerebbe Magari fare un personaggio Del genere Ok Quindi bug il clown Per Alessandro Va bene Alex Ma io sinceramente Non mi vedo Su nessun altro Se non si usa Però Forse L'unico A cui Forse starei bene E che mi piacerebbe fare Cioè Riuscirei forse a dargli Qualcuno Sicuramente mi piacerebbe fare Qualche cattivo Ma non conoscendoli Non posso dirli Quindi Oppure li conosco solo Ecco Per sentito dire Qualche immagine Però Invece Se devo vedere Su chi potrei stare Su chi sarebbe Stare bene Magari proprio Luffy Non lo so Però Forse Non lo so Due tre anni fa Quindi Due tre anni fa L'avrei fatto Con un Un po' Questa Ingenuità Tra virgolette Questa Questa cosa sognante Ancora più reale Leggerezza Non lo so Ok Quindi Alex Si colloca Su Luffy Riccardo Adesso anche tu Devi fare l'introduzione Come tutti gli altri No Dio Non mi vedo nessuno Però Poi No Mui sono della famiglia In realtà La famiglia Mi ci vedo bene No comunque In realtà Mi devo Un po' Accodare Ad Alessandro Perché alla fine È un personaggio Che Suscita un certo Fascino È innegabile Quindi Probabilmente Mi sarebbe piaciuto Fare Buggy Certo Non ho l'età Per farlo Magari Però Mi sarebbe piaciuto Sì sicuramente Fare un personaggio Del genere È sempre divertente Se non poter Se non avessi potuto Fare Kobe Se non Luffy Che erano 5-4 turni in più Comunque Comunque Fa cassa Giusto I soldi Non li avrei No Non li avresti schifati No Buggy Buggy Dai Il One Piece I soldi Ok Bene Bene Emiliano Bravo Due su tre Vogliono il tuo personaggio Attenzione Io purtroppo Non mi trovo bene Su nessun altro Se non si paghi Quindi Purtroppo Non mi dispiace Non posso No Vabbè Ci credo Ma perché è un personaggio Io sono Super riconoscente A Marco Per avermi ci messo Perché A parte che è stato Un bellissimo lavorare Ma è proprio un personaggio Che per un attore Dici che cazzo Sì C'è una giostra Che quando la vedi Da lontano Fai Ci voglio salire sopra Perché effettivamente È molto accattivante Quindi lo capisco Dovendo scegliere Per forza Un'altra cosa Io personalmente Mi sarei divertito A fare Zoro Ok Beh Zoro Bello Bello Ma mia Il fanta doppiaggio Che ho in testa ora Il fanta doppiaggio Manuel è stato Superlativo È stato Bravissimo Però io Da attore Mi divertirei a farlo Sicuramente Mi sarei divertito Ok Ci siamo Ci siamo Bello Bello In chat ti vedevano Anche come Shanks Però Io la butto all'aria Ora attendiamo Il parere Sì Ti vedevano Su Shanks Shanks Dai Shanks Non è il papà Di Luffy No Ho detto Una passata Non è il padre Non è il padre È il capitano È il capitano Esatto Il capitano Della Ciurma Prende da esempio Qualcuno Quello che gli ha dato Il cappello Una specie Di padre Il cappello Esatto Senza braccio E braccio Ha perso per salvar lui Esatto Stando a live action Non so un cazzo Della serie E qua Ritorna anche Il concetto di famiglia Che non è La famiglia intesa Come Da non sottovalutare Il perdere un braccio Forse la vedremo Nella seconda stagione Chirio Tu che ne pensi La famiglia Il concetto di famiglia Esatto Esatto Verrà ancora più approfondito Il concetto di famiglia No Cosa mi aspetto Della seconda stagione In realtà Che sia Divertente come la prima Forse Tecnicamente Potrebbero investire Un pochino di più Nel senso Che magari qualche Ricordiamo Lo so che ci hanno investito tanto Ma non sempre Se è visto Questo investimento A livello Ci sono state Però è stata Veramente tanti 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 soldi Sì Credo che sia Credo che sia Costata Cioè Credo che forse L'investimento Sia stato fatto Molto sul marketing E sulla promozione E questo si è visto Tantissimo Però molti Si sono lamentati Un po' Della resa Tecnica Della serie Che a me Come dicevo prima Importa relativamente Nel senso che La vedo come una serie Divertente Molto leggera Molto Tranquilla Però Se volesse Tirare ancora più pubblico Magari Quella fetta di pubblico Che sta tanto attenta Alle minuzie tecniche O quant'altro Allora potrebbe fare Un investimento Più su Ma non è mal fatta Non la contanteranno mai Perché la verità E' capitato di doppiare Dei live action No? Americani Su prodotti giapponesi E il 99,9% Delle volte Facevano cacare Scusate il termine Ma è così Questa volta Questa volta Onestamente Perdì Borghese Parioli Delicatissimo No dicevo Questa volta Onestamente Cioè io Penso veramente Che chi si è lamentato È giusto per il gusto Di lamentarsi Perché uno può dire A me la serie Non è Cioè Mi piace l'anime Non me la voglio vedere Però dire che è una serie Fatta male È errato È una serie Ma guarda Alessandro Molti lo hanno detto Dal trailer Cioè Neanche l'hanno guardata La serie Cioè nel senso Che purtroppo Penso che a volte La community Manga anime Sia tossica Nonostante io Ne faccio parte Perché amo Quei prodotti Però a volte Non c'è senso Criticare una cosa Che invece È fatta bene Poi puoi dire Preferisco Guardarmi l'anime Perché Non lo posso vedere In carne e ossa Ma ci mancherebbe Ma chiaro Però onestamente Poi da un punto tecnico Non va riconosciuto Proprio che è stata fatta Molto bene Come serie Obiettivamente Sì 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 Piacere e non piacere Vero Sì sì Ma infatti È la cosa che purtroppo Molti si lamentano A prescindere È la verità Più assoluta Non solo nel campo Mangani Perché anche nei videogiochi In qualsiasi Ambito Dove c'è tanto amore Anche verso il prodotto A volte sfocia In direzioni Non Non proprio Poco tossiche Anzi Però sì appunto Questo E poi sono curioso Di vedere altri personaggi Nuovi Insomma che Ancora devono Devono uscire Tipo Chopper Assolutamente Sì 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 Quindi vedere anche come renderanno Questi personaggi Se faranno un casting Così come nella prima stagione Che per me è stato Perfetto Veramente Ho trovato tutti i personaggi Esattamente come mi sarei aspettato Di vedere i personaggi Del manga Nella vita vera Tra virgolette Quindi come personaggi In carne ed ossa Quindi su quello Devo dire che hanno fatto Un lavoro Egregio Oltre che con i doppiatori italiani Oltre almeno Ovviamente Ovviamente È vero Bellissima Comunque Per quel che mi riguarda Bellissima serie Fatta molto bene In chat dicono anche Si vede che c'è dietro il creatore Ed è anche Un fattore Guarda che la differenza È stata quella I americani Non sono capaci Di fare le cose giapponesi Siccome probabilmente Al contrario Il fatto che ci sia stato Oda Che ha seguito tutto Ha cambiato le sorti Di questa serie Per come la vedo Secondo me È vero Anche a mettere alcuni paletti Tipo il fatto che Oda non volesse Romance Tra i membri Della Shurma Secondo me È stata una cosa importante Perché Non dico che sia Per forza un male Però Poteva un pochino Talacquare Quell'opera Che non ha bisogno Al momento Non ha bisogno Di quella cosa È vero Esatto Ok Ok Ragazzuoli È il momento Andiamo in chiusura Noi andiamo a ringraziare Tutti voi Che ci avete seguito Siete fantastici Grazie tutti voi Lo so Abbiamo letto 3-4 domande Però insomma Siate felici Che abbiamo letto Queste 3-4 domande Vi vado ovviamente A ringraziare I miei colleghi Di questa sera Andrea Spanchi Ma soprattutto I nostri fantastici ospiti Che è sempre Un grande piacere Poter Avere Avere qui sul canale Poterci scambiare Quattro chiacchiere Quindi grazie mille Chirio Emiliano Riccardo Alex Alessandro È stata una bellissima live Soprattutto grazie a voi Quindi veramente È stato un grande piacere Per noi Anche per noi Dai Allora Noi vi diamo appuntamento Questa settimana Ovviamente ci stiamo domani Mercoledì Con il mio Just Giovedì Con la serata Halloween Però Rimanete belli Sintonizzati Perché nel mio Just Si fanno cocktail Io non so Se capite Sono un barman acrobatico Quindi vi insegnerò Qualche chicca del mestiere Però per i prossimi talks I prossimi due talks Ve li dico in spoiler In sequenza Saranno Così Così glieli voglio dire Edoardo Nevola Che è la voce di Willy Il Prince di Bel Air E Antonello Fassari Che è un grandissimo attore Anche lui Per chi Prodotto Che amarezza Magari C'è Sare dei Cesaroni Però anche tante altre cose Come anni 50 E poi tante altre cose Abbiamo i talks Da qui fino a fine novembre Programmati Quindi Grazie mille per seguirci Però speriamo di ricambiarvi Con delle cose carine Tante belle cose Che arriveranno Che arriveranno Sia dal vivo Che online Quindi grazie ancora La parola d'ordine è Famiglia 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 Ci lasciamo Con la parola d'ordine Famiglia Buonanotte a tutti E grazie ancora Buonanotte Buonanotte Grazie.